Benvenuti nel mondo degli orologi Ikepod. Ikepod è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1994 dal designer di orologi Mark Newson e dall'imprenditore Oliver Eich. Il marchio si è subito fatto notare per il suo design innovativo e fuori dagli schemi che ha attirato l'attenzione di molti appassionati di orologeria. Il modello iconico di Ikepod è Lemipode, un orologio da polso unisex caratterizzato da una cassa a tono asimmetrica in acciaio inossidabile o titanio e un quadrante minimalista. Progettato da Mark Newson e lanciato sul mercato nel 1996, questo orologio si è guadagnato una grande reputazione tra gli appassionati di orologi per la sua originalità e il design unico. Ma Ikepod non si ferma qui, il marchio ha creato molti altri modelli di orologi di lusso con design innovativi e originali. Ad esempio, il modello Solaris presenta una cassa a tono in titanio e un quadrante con una disposizione asimmetrica degli elementi, mentre il modello Horizon ha una cassa in acciaio inossidabile e un quadrante con una disposizione circolare degli elementi. Ogni modello di Ikepod è caratterizzato dal suo stile unico e distintivo, che lo rende un'opzione per gli appassionati di orologi di lusso alla ricerca di orologi distintivi e di alta qualità. Ikepod ha anche collaborato con altri designer e artisti per creare edizioni speciali limitate degli orologi. Il marchio ha collaborato con il designer di Moda Kaas per creare una serie di orologi con quadranti decorati con il suo caratteristico personaggio in stile cartoon dalla testa a teschio e gli occhi a X. Queste edizioni speciali sono molto apprezzate dai collezionisti e dagli appassionati di orologi, che cercano orologi distintivi e di alta qualità per arricchire la loro collezione. Tuttavia, i prezzi degli orologi Ikepod sono generalmente elevati, a causa della loro alta qualità e del loro design unico. Ma per gli appassionati di orologi di lusso e per i collezionisti, un orologio Ikepod è un investimento che vale la pena fare. In sintesi, Ikepod è un marchio svizzero di orologi di lusso noto per il suo design innovativo e fuori dagli schemi. Il marchio è stato fondato dal designer di orologi Mark Newson e dall'imprenditore Oliver Eich, e ha creato molti modelli iconici, tra cui le Mipode. I modelli di Ikepod sono generalmente molto apprezzati dagli appassionati di orologi di lusso e dai collezionisti, che cercano orologi distintivi e di alta qualità per arricchire nella loro collezione.